come si chiamano terroni terroni ma che terra ma siamo allo sdossapari ti fanno le foto vicky sorrisi vicky è come sdossapari non vedi che ti fanno le foto dobbiamo fare cose strante e esagerate no c'è il passaggio scemo e basta no dai è molto facile anche adesso è rovinato così non faccio più cretino quindi va bene così si sta un po' più tranquillo esatto bravo ma come cazzo fate arrivare là grazie a tutti